E' una crisi senza fine. Il noto cede in casa anche al Montalto e resta ammestamente all'ultimo posto della classifica. Gli ospiti si impongono 3-1 ma per i Granata, che hanno disputato un ottimo primo tempo, è una punizione fin troppo severa. Padroni di casa arremmanti e sfortunati nella prima metà di gara. Al 14esimo Fontanella prolunga di testa per Sisalli, che entra in aria ma calcia debolmente e il portiere interviene senza problemi. Un minuto più tardi il sinistro di Merito non va distante dall'incrocio dei pali. Al 21esimo buona opportunità per i calabresi con questo destro di Zangaro che termina fuori di un soffio. Clamoroso al 35esimo il palo colpito dal Granata Sisalli con un tiro dal limite dell'aria. Mentre nel recupero della prima frazione Fornoni è decisivo sulla conclusione ravvicinata di Occhiuzzi al termine di un'azione convulsa. Nella ripresa il noto perde smalto e brillantezze. Al 16esimo paga a caro prezzo una distrazione difensiva. Il portiere Fornoni è costretto a commettere fallo da rigore su Piemontese e dagli 11 metri lo stesso attaccante ospite fa centro. Al 23esimo la formazione in maglia bianca raddoppia con una conclusione di Zangaro, ma il noto non si arrende e al 34esimo riapre la pratica con questa rete in mischia di Montalto sugli sviluppi di un calcio di punizione. I locali attaccano a testa bassa e la palla buona capita al 38esimo sul destro di Fontanella che da posizione defilata decide di calciare in porta colpendo però l'esterno della rete. Dall'altra parte il Montalto non sbaglia e al 43esimo Zangaro ancora lui supera Fornoni con un tiro che si infila sotto la traversa. Per il noto è buio pesto, quinta sconfitta consecutiva. Il suo tecnico Giancarlo Betta da quando siede sulla panchina granata non ha ancora colto un punto. Grazie. 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 Grazie.